Buonasera, siamo qui con Antonio Romanelli, migliore in campo nella partita di Super 8 Dragable contro Palermo finita 8 a 0 per i Dragable, Romanelli non ha segnato nessun gol, ma allora perché migliore in campo Romanelli? Io sono troppo forte, la seconda su tre, Mennichini fa i gol e li difendo oramai, che tanto quello è partire in attacco Una campagna di beneficenza, a favore di Lombardi, facciamomi poi qualche gol Lui mi ha ancora segnato ultra variata Dedico il mio gol a tutti gli animali in via di estinzione Io che non gioco ho fatto più gol di Lombardi Renato ha giocato per la Sama E senti una cosa, in prospettiva futura questi Dragable per i Super 8 a che cosa punta? Per Marco Russo Tutte vittorie, manca una scompita, manca un pareggio, tutte vittorie 18 Renato Lombardi fa E pure il Sivi, Siviglia, Palazzine, tutti Forza Drago, forza Drago Ma ci scazzano le Palazzine, sicuro Ho capito, va bene, allora un saluto ad Antonio Il 18 Renato fa un mese Quell'uomo con la freccia gialla, ciao Il 18 Renato fa un mese, auguri a Renato e Cali